Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di un fattore molto importante per chi canta, che è l'autostima. Cantare in libertà Mi è capitato nel corso di questi anni di insegnamento di sentire alcuni ragazzi dire frasi del tipo Eh ma se io fossi stato più alto, oppure se fossi più bello, magari avessi la voce più acuta o mi piacerebbe avere una voce più rauca, più fare il graffiato, eccetera, eccetera. In realtà ognuno di noi vorrebbe essere perfetto per quello che vuol significare ma in realtà noi siamo unici e dobbiamo accettare la nostra unicità per riuscire a dare il nostro apporto alla musica. Mi dimagrile un po' fa? Ah, ora sono più male. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettare quello che siamo e fare, fare e ancora fare. Immaginate di essere un colore della tavolozza di un pittore, no? Immaginate se il blu dovesse cambiare il suo colore in giallo e viceversa oppure il viola diventasse marrone, il grigio diventasse un altro colore e come si stravolgerebbe il mondo dei colori? Beh, nel mondo della musica è lo stesso. Se noi siamo un colore, apparteniamo a un modo di cantare e noi dobbiamo accettare quello che siamo e dare il nostro supporto, diciamo, nella tavolozza della musica, se vogliamo. Tu sei quello che sei. Non ce n'è stato un altro prima di te uguale a te. E non ce ne sarà mai più uno così. Pensaci. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie. Grazie.